Sarebbe l'ultimo brano, lo devo presentare ora perché dura 57 minuti, è una suite che si intitola Rocca Mare che viene da una colonna sonora di un film a cui noi teniamo molto, Caos Calmo, per la quale abbiamo realizzato le musiche, poi sono uscite in questo disco dal titolo Ordine Agitato, una trovata di quelle simpatiche, e la musica, niente, due mesi prima dell'uscita del film invece la musica è stata assegnata a un altro, capirete perché ascoltando il brano in questione, che ha vinto tutti i premi possibili, Buon Vino ha vinto, non so, l'Uni d'Oro, poi il Nobel per la pace, questa musica, per cui insomma questo è stato un po' il nostro smacco e per questo, voi lo sapete, noi dobbiamo scaricare un po' questo peso e quindi vi imponiamo di ascoltare questa suite che era la parte centrale del film e si concludeva con la famosa scena di sesso tra Nanni Moretti e Isabella Ferrali, sentite il finale del brano e capite perché poi giustamente ho preferito soprassedere e usare degli archi che invece erano molto più rilassanti, hanno preferito? Soprassedere non si dice? Sovracitare? Ah perché nel caso di sesso non si dice soprassedere. Soprassται? Grazie. 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 Grazie!